Ecco, l'avevo ritrovato prima e ora vi faccio vedere. Questa è un'orchidea selvatico. Proprio. E poi ha un profumo fantastico, veramente bello. Ora, ci sono uno, due, tre, quattro, cinque cresciuti insieme. Ora, c'era un'altra ma non lo trovo. E prima o poi lo troverò. Aspettiamo che fa i semi. Già quell'altro tipo di orchidea ce ne ho preso due e le ho messe in un vaso e le hanno preso. Ora, se trovo anche quell'altra, se no di questa prendo i semi e li metto in altri vasi. Ecco. Ha un profumo proprio bello. Ecco, io non trovo... Le foglie. Quell'altro ci avevano le foglie. Questi no. Può darsi le foglie che vengono dopo la fioritura. non lo sapete. Ti chiede di cistella? Va bene. Questa è una bellissima domenica. ma a tutti no. Buona domenica a tutti. Grazie. Grazie.